Piccola introduzione veloce a schermo nero, giusto per, diciamo, scusarmi, tra virgolette, del fatto di aver diviso questi due episodi con finale C da una parte e finale D e inizio del finale E dall'altro, in modo tale da rendere il tutto più ordinato e anche visibilmente più accettabile, dato che così il video non durerà tantissimo, dureranno circa 20 minuti a testa, 20-30 minuti a testa e quindi si avrà la possibilità di goderseli così come è giusto che sia. Detto ciò, vi lascio al video e spero che vi possa interessare e piacere. Grazie a tutti. E qua siamo nuovamente Davanti a Kainé e dobbiamo decidere cosa fare davanti a Kainé. Come ci ha detto Tyran, noi possiamo renderla di nuovo umana. E questo perché? Perché adesso la mia esistenza è quella di un essere umano. Io, avendo sconfitto il mio, diciamo, la mia ombra, in questo caso il signore delle ombre, ho permesso al mio personaggio di diventare un essere umano. Un po' come su Kingdom Hearts, se ci fate caso, no? Che ci sono gli Heartless e i Nobody che uniti formano appunto la persona. Ecco, qui è una cosa molto simile. L'ombra, non avendo più il suo recipiente, il suo corpo, è morta, ma di conseguenza che è successo? Che il mio protagonista è diventato un essere umano, perché adesso ha una sua anima, ha un suo recipiente e non ha più la sua ombra. Quindi, scambiando la mia esistenza, quindi scambiando il mio essere umano con Kainé, praticamente Kainé viene liberata dalla sua ombra, viene liberata da tutto e diventa un essere umano così come lo sono diventato io. E quindi, se nella scorsa volta abbiamo ucciso Kainé per sbloccare in questo caso il finale C, adesso sacrificheremo la nostra esistenza per rendere Kainé di nuovo umana e sbloccare il finale D con conseguente finale E successivo. Sbloccare il finale E successivo e qui ci viene fatta la scelta ci viene data la possibilità di ritornare indietro se selezioni questa opzione tutti i tuoi dati salvati verranno eliminati vuoi davvero continuare? ecco perché bisogna fare in ordine prima il finale C e poi il finale D perché una volta concluso questo finale avremo effettivamente i dati cancellati fino ad un totte evento fino a un certo evento anche se cambi idea ora potrai tornare a questa selezione completando nuovamente il gioco vuoi davvero confermare? tutti i dati salvati verranno eliminati potrai selezionare questa opzione una sola volta vuoi davvero continuare? è la tua ultima possibilità di cambiare idea vuoi davvero continuare? inserisci il nome del giocatore da cancellare e in questo caso io devo mettere il vecchio nome perché questo è il mio vecchio salvataggio ha inserito il nome corretto tutti i file di salvataggio verranno eliminati è il mio vecchio salvataggio è il mio vecchio salvataggio è il mio vecchio salvataggio io devo dare un po' di salvataggio è il mio vecchio salvataggio è il mio vecchio salvataggio Grazie a tutti. 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 del nostro finale. , , , grazie a tutti. , , ed è... che comincia il, che comincia il gameplay del finale. , , , , ,... ,... ,... ,... ,..., ,..., ,..., ,..., ,..., ,..., ,..., ,... abbastanza ovvia come cosa però era giusto sottolinearla vediamo ora se la facciamo incazzare ancora volevo farvi ecco vedete ci prende ci prende a manate ci prende a pedate però ve lo volevo fare vedere ormai questo piccolo giochino intanto ho salvato sei proprio irritante lo sai ma noi non demordiamo e direi piano piano ci sta avvertendo comunque vedete fermatevi che cosa hai da guardare smettila di distrarmi ormai ci siamo credo che sia l'ultimo volevo salutarvi proprio con questo ecco questo è l'ultimo avvertimento ed è veramente l'ultimo avvertimento se non sbaglio perché lei dopo questo ecco esatto finisce esattamente con un game over quindi ragazzi detto ciò chiudiamo questa prima parte del finale la prossima volta probabilmente farò tutto in una volta tutto il finale dura un po' effettivamente probabilmente un'oretta ci dura come gameplay magari taglierò qualche cosa qua e là però lo voglio fare tutto completo proprio per dare una porzione unica a quello che sarà il finale e conclusivo ovviamente dell'opera quindi grazie ancora e alla prossima